Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Officina 3D, sono Andrea Galeazzi, Country Manager di Prusa Research. Oggi vi porto in un video un pochino diverso, dove andremo a spingere la Prusa MK4 al suo limite massimo. Quindi, dopo la sigla, vi aspetto per questo nuovo video. Eccoci, ovviamente, ripeto, è un video un po' diverso dal solito, non è la classica recensione perché sarei troppo di parte, non è il classico contenuto che si trova online, quindi andremo a stressare e veramente portare al limite questa MK4 grazie ai test che ho già fatto. Vi invito ovviamente ad iscrivervi ai canali YouTube e ai canali social di Officina 3D, che trovate tutti in descrizione, insieme anche alla Community Map, se non sapete cos'è andate a vedervela al termine di questo video, e insieme ai link di Officina 3D troverete anche i miei personali, dove ovviamente parlo di Prusa Research e delle sue macchine. Quindi, mi raccomando, seguite Officina e seguite anche me. Come vi dicevo, ho stampato dei file che spingono al limite la macchina. Perché? Perché magari sono file di precisione, dove si valuta la precisione, dove si valuta la tolleranza, dove si valuta il livellamento, quindi siamo andati a stressarla bene, bene, bene. Partiamo dal primo test che apparentemente è il più semplice, ma forse è il più difficile che abbiamo sul tavolo. Questo è un One Layer Test, quindi è un disegno che ho fatto io online e ci si mette due secondi. È essenzialmente un layer, un singolo layer stampato a 0,2 di altezza, dove si va a valutare appunto la qualità del sistema di livellamento. Il sistema di livellamento è che sulla MK4 è a cella di carico, quindi il nozzle effettivamente tocca il piatto per andare a calibrare il primo layer, lo Z Offset. Quindi questa tecnologia cosa ci permette di fare? Ci permette di stampare anche sopra ad alcuni oggetti. Ovviamente l'altezza dell'oggetto sulla quale vogliamo stampare deve essere molto bassa, però si può stampare sia su oggetti, sia, come mi è capitato in Fiera a Verona un paio di volte, con il piatto attaccato male, perché l'avevo attaccato, appoggiato sopra una di queste due linguette, il piatto era effettivamente slivellato, era effettivamente posizionato male, ma la stampante ha rilevato la curvatura del piatto e è andata a stampare senza alcun problema, con il massimo della precisione. Appunto vi faccio vedere questo test, che ha avuto un risultato veramente ottimo. Vi ricordo che questo è un layer di altezza 0,2 e diciamo che il risultato parla da solo. Vi metterò ovviamente delle inquadrature da più vicino. L'unico difetto che vedo è in un angolo, dove la plastica non ha attaccato bene. Questo non è un errore della stampante, ma è un errore mio, che probabilmente non ho pulito bene il piatto. Quindi magari c'era un'impronta, una ditata, un pochino di sporco e la plastica non ha aderito bene. Però il resto del file ha stampato perfettamente, quindi appunto sono sicuro al 100% che non è un problema della macchina, ma è un errore umano mio. Quindi risultato veramente ottimo. Penso che appunto le immagini parlino da sole. Il sistema di livellamento su questa MK4, che è lo stesso della XL, funziona veramente molto molto bene. Passiamo poi a un altro test, dove valutiamo la precisione della stampante. Questa è una zip stampata in due pezzi, ma eventualmente c'è anche la zip stampata tutta in un pezzo, non cambia assolutamente niente. Sono andato a montarla, ad incastrare le due parti della zip e andiamo a valutare come scorre questo pezzo sulla zip appunto. Vediamo che scorre veramente bene. Ovviamente stiamo parlando di plastica che fa attrito su plastica. Non aspettatevi il massimo, insomma, delle prestazioni da due plastiche che fanno attrito. Però come vedete, assolutamente il pezzo non è incastrato, scivola molto bene e le tolleranze sono quasi perfette di questo pezzo. Quindi appunto valutiamo la precisione, valutiamo le tolleranze. Direi che abbiamo avuto un ottimo risultato. Tra l'altro la qualità di stampa è ottima, grazie anche a questo filamento Prusament Galaxy Black PLA. Veramente sia ottimo nell'aspetto, sia ottima nella stampa. Faccio appunto un piccolo accenno sui Prusament. Prusament che sono i filamenti prodotti da Prusa, con una qualità molto molto alta, sia delle materie prime, sia poi nell'estrusione. L'estrusione ha una tolleranza di due centesimi. Se la tolleranza del filamento va oltre appunto questi due centesimi, viene usato internamente oppure viene riciclato il filamento. Quindi non viene messo in commercio. La tolleranza di due centesimi è una tolleranza molto bassa, quindi la qualità è molto alta. Diciamo che Prusa è forse una delle poche che dice di fare quella tolleranza, dà questa certificazione, diciamo così, e poi la rispetta. Tra l'altro potete anche scansionare il QR code che è presente in ogni bobina. E questo vi farà vedere, vi mostrerà il grafico della tolleranza della specifica bobina. Quindi non di un PLA a caso, non del PLA in generale, non dei PLA rosa in questo caso in generale, ma di questa specifica bobina voi andrete a vedere la tolleranza, l'andamento della tolleranza e il grafico. Sicuramente è una caratteristica che denota qualità dell'estrusione, qualità della lavorazione della materia prima e soprattutto la qualità nell'estrusione. È presente su tutte le bobine, quindi veramente un ottimo lavoro da parte di Prusa. Passiamo poi a un altro test, anche questo direi forse il più difficile, se non poi anche il primo, il test del primo layer è veramente difficile, ma questo penso che sia stato uno dei test più difficili. Questi che sembrano dei rettangoli classicissimi sono appunto dei pezzi stampati, angolati sul piatto. Quindi in questo caso è stato stampato a questa angolazione, a questa angolazione e poi il pezzo grande che ho fermato perché mi sembrava inutile andare oltre, l'ho stampato con questa parte appoggiata sul piatto. Come vedete la parte di appoggio è veramente molto piccola perché parliamo di questi tre appoggi, uno, due, tre, e appunto poi siamo andati in altezza. Cosa siamo andati a valutare con questo test? Beh, sicuramente quanto bene, passatemi il termine, estrude il sistema appunto un extruder chiamato di Prusa. Quindi vediamo un'estrusione molto omogenea. Vediamo che la stampante, nonostante sia una bad slinger, è riuscita a portarsi avanti e indietro il pezzo senza farlo cadere. Come vedete, ripeto, l'ho fermata io, non ha fallito la stampa, ci tengo a sottolinearlo. Quindi siamo andati a valutare come l'estrusore ha lavorato ed ha lavorato in maniera impeccabile, come l'altezza su Z, nonostante questo non sia un pezzo molto alto, non ha influito sulla qualità di stampa e ovviamente è riuscita a passare da un pezzo all'altro senza far cadere quello precedente. Questi tre sono stati stampati tutti nello stesso piatto, tutti nello stesso momento. Veramente un ottimo lavoro, soprattutto se avete intenzione di stampare pezzi alti con basi molto piccole senza aggiungere brim in questo caso. Questa è proprio la base, punto e stop. Senza brim, senza additivi ovviamente, tutto senza additivi, senza colle strane, senza lacche, eccetera. Solo merito del piatto e della macchina. Quindi un ottimo lavoro anche su questo test. Vi invito a riprodurlo, vi invito a scaricarvi i file da printables e testarlo voi stessi con le vostre macchine. Magari poi postate nel gruppo di Officina 3D i vostri risultati. Quindi anche qui appunto un ottimo risultato di questo test. Passerei poi a questa maglia che ha, diciamo, è un simil tessuto sviluppato dalla NASA. Non so se è proprio questo nello specifico ma oppure uno molto simile. Qui cosa andiamo a valutare? Andiamo a valutare prettamente le tolleranze. Perché? Perché questo oggetto è stampato in un'unica stampa, quindi è stampato tutto insieme. I singoli, delle singole maglie sono uniti da dei piccolissimi cerchietti che potrebbero fallire molto molto facilmente. Ecco, diciamo così. come vediamo come vedete l'ho stampato in due colori a un certo punto ho messo pausa ho cambiato il filamento per farlo un po' più colorato per farlo un po' più simpatico e anche qui vediamo qualità di stampa veramente ottima vediamo che nessun cerchietto tra una maglia e l'altra ha fallito sono tutti stampati direi alla perfezione e ovviamente è utilizzabile quindi è venuta fuori dal piatto così com'è. Sicuramente un altro test molto importante per questa tipologia di stampanti per le stampanti FDM perché riprodurre dettagli così piccoli non è semplice quindi vedere questo dettaglio questa precisione anche nel movimento delle maglie stesse veramente è sorprendente ripeto non è stato utilizzato nessun additivo la stampante è stock è originale non è stata modificata in alcun parametro ho importato il file selezionato la tipologia di materiale e ho lasciato le impostazioni standard quindi questo è il risultato out of the box quindi veramente tirate fuori dalla scatola e mettete in stampa dei pezzi ecco quindi questo è il risultato direi anche qui un risultato più che soddisfacente direi ottimo passiamo poi al penultimo test che sembra stupido ma di la verità non lo è questo purtroppo l'ho un po' maltrattato quindi non sta più bene in piedi come prima è uno standing table levitation table praticamente è un file disegnato in modo che le forze dei due tavoli si sorreggano a vicenda e creino un tavolino adesso lo tengo col dito per non farlo cadere come vedete le uniche parti che tengono in piedi che tengono unite i due pezzi del tavolino passatemi il termine sono questi singoli filamenti singoli fili che appunto sorreggono il peso l'uno dell'altro e questo vuol dire che appunto lasciate stare che l'ho trattato un pochino male si sorreggono a vicenda ripeto l'ho trattato male quindi adesso non sta in piedi ma non è questo che dobbiamo valutare è quello che dobbiamo valutare noi è l'estrusione del singolo filamento che vedete sicuramente negli zoom è un'estrusione perfetta è un bridge praticamente perfetto che a dire la verità mi ha sorpreso parecchio c'era scritto di attivare la rilevazione delle pareti sottili se non ricordo male me ne sono dimenticato e l'ho buttata in stampa con i settaggi standard nonostante questo il risultato diciamo è abbastanza palese è abbastanza lampante potete vederlo il filamento singolo è venuto perfetto anche qui altezza layer 0.2 scusatemi vi ripeto ho stampato tutto ad altezza 0.2 quindi è un'altezza standard non sono andato a stampare i file con un'altezza layer molto molto bassa perché sennò sarebbe stato un po' diciamo cittare un po' modificare le carte in tavola lo 0.2 è l'altezza layer diciamo standard quindi ho utilizzato quella ultimo test per questo ho utilizzato un'altezza layer 0.15 quindi un'altezza layer un po' più bassa più che altro perché c'era la presenza degli overhang non per aumentare la qualità di stampa perché su questo test stampare 0.2 o 0.15 faceva ben poca differenza ma appunto per andare a lavorare il meglio possibile sugli overhang questo questo l'ho stampato a 0.2 questo l'ho stampato a 0.15 sono lo stesso file solo orientate in modi diversi quindi uno era frontale così e uno era laterale perché la prusa la ventola da un lato quindi anche nella fase di posizionamento dell'STL del file sul piatto di stampa bisogna tenere in considerazione anche di questo fattore che è abbastanza comune alle stampanti 3D avere la ventola solo da un lato che sia davanti che sia nel retro che sia di lato cambia poco solitamente sia solo da un lato a meno che appunto non si modifichi il fan duct come vedete anche qui abbiamo avuto un risultato veramente a livelli top questo test è abbastanza completo perché vediamo dei bridge quindi dei ponti quindi delle strutture non supportate dove l'estrusore stampa nel vuoto vediamo dei piccoli pilastrini dove andiamo a valutare lo stringing quindi la retrazione vediamo dei cerchi per andare a valutare le tolleranze interne e esterne altri pilastri molto molto sottili dove si va a valutare la precisione qui poi ci sono delle altre strutture ma quella diciamo su cui mi concentrerei maggiormente è l'overhang l'overhang cos'è è diciamo un angolo solitamente superiore ai 45-50 gradi dove la stampante solitamente fa fatica a stampare perché se non se il pezzo non è supportato si va a stampare nel vuoto appunto questo test è appositamente stampato senza supporti ovviamente quando si raggiunge un angolo di 80 gradi qua siamo quasi a 90 gradi abbiamo superato gli 80 gradi ovviamente stiamo stampando completamente nel vuoto non possiamo aspettarci la perfezione totale però vediamo che fino ai 60 gradi poi vi metterò appunto le riprese da più vicino fino ai 60 gradi di curvatura di pendenza abbiamo una stampa praticamente perfetta quindi quando andremo a posizionare le stampe dallo slicer nel piatto di stampa possiamo impostare che fino a 55 50 gradi possiamo non supportare il pezzo questo ci fa risparmiare in tempo e ci fa risparmiare anche nella postproduzione spesso quando si vanno a rimuovere i supporti rimangono delle piccole cicatrici che dobbiamo andare a sistemare grazie alla Prusa MK4 possiamo stampare fino a 60 gradi abbondanti senza strutture di supporto quindi veramente direi test superato a pieni voti ho misurato le tolleranze veramente sono al 99% precise quindi un risultato veramente ottimo considerando appunto che non sono fatti non è stato fatto nessun test nessun affinamento del profilo eccetera eccetera quindi è proprio out of the box come ho detto prima bridge praticamente perfetti ovviamente c'è un po' di calatura del filamento ma uno è migliore dell'altro quindi poi in fase di orientamento del pezzo ecco questo nero il bridge di questo nero è notevolmente migliore in fase di orientamento del pezzo andremo a orientare la ventola nel migliore dei modi questo come vi dicevo non è solo inerente alla prusa ma è un discorso valido per qualsiasi stampante 3d ok bene allora intanto vi rinvito a iscrivervi appunto al canale youtube di officina 3d ai miei social e ai social di officina 3d che trovate tutti in descrizione direi che prusa la prusa mk4 supera i test a pieni voti chi mi conosce sa che tanti anni che stampo ho provato veramente tante 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 stampanti però la mk4 è l'unica che veramente out of the box mi ha dato dei risultati ottimi consistenti quindi ripetibili perché parliamo di una macchina che sta lavorando da tre mesi abbondanti non stop h24 praticamente quindi dopo tutte queste ore di stampa senza alcun tipo di manutenzione trasporto in macchina varie con tutte le vibrazioni del caso direi che abbiamo ottenuto dei risultati veramente ottimi vi invito ovviamente in descrizione a vedere il link della prusa mk4 ve la consiglio vivamente ma se avete altre domande avete altre curiosità potete contattare officina 3d oppure potete contattare me in privato trovate i miei social in descrizione io ovviamente vi ringrazio per la visione vi aspetto giovedì mercoledì prossimo con un prossimo con un altro video giovedì ore 21 c'è la solita live settimanale nel canale di officina 3d quindi vi aspetto e ci vediamo alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.